Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi degli ultimi audiolibri che ho ascoltato. Gli audiolibri io li ascolto su Storytel, è una domanda che mi fate sempre in tantissimi. Trovo che il catalogo di Storytel sia più vicino a quelli che sono un po' i miei gusti, le mie esigenze, diciamo, da lettrice, senza nulla togliere ad altri, magari, servizi simili, come ad esempio Audible. Prima di iniziare però vi ricordo che se volete sostenere il canale potete farlo iscrivendovi, abbonandovi, mettendo mi piace a questo video, condividendolo con i vostri amici oppure commentando, visto che l'engagement è sempre fondamentale. Potete anche acquistare attraverso i miei link da affiliata utilizzando i miei codici sconto da affiliata che trovate in descrizione. Acquistando attraverso questi link o utilizzando i codici senza minimo di spesa e prendendo appunto quello che più vi piace, una piccola percentuale andrà a sostenermi. Quindi grazie mille. Alcuni dei miei audiolibri preferiti in assoluto sono di Agatha Christie. A me piace tantissimo sia leggere i suoi romanzi che ascoltarli. Lo trovo molto di intrattenimento, soprattutto alcuni audiolibri che vengono letti da diversi attori. Mi sono piaciuti molto, ad esempio, fra gli ultimi che ho ascoltato, Se morisse mio marito, due mesi dopo, uno dei miei preferiti, e Corpi al sole. Molto carino anche Miss Marple nei Caraibi, di cui vi ho parlato anche nell'ultimo video, ultime letture, quindi nel caso ve lo lascio nelle schede qua sotto in descrizione. L'ultimo che ho ascoltato di Agatha Christie è stato un messaggio dagli spiriti che non vede per protagonista, né Poirot né Miss Marple. Non ho letto tantissimi gialli di questo tipo, quindi senza un vero e proprio investigatore o diciamo protagonista, quindi ero molto molto curiosa di leggere appunto questo romanzo. Ci troviamo in un paesino isolato dalla neve, dove un gruppo di persone bloccate appunto da una forte nevicata decide di fare una sorta di seduta spiritica, di quelle in cui tutti sono seduti diciamo attorno a un tavolo e mettendo le mani su un foglio si lascia muovere, vedere dove lo spirito porta appunto tutte le mani e identifica delle lettere che poi formano delle parole, insomma non mi so spiegare bene però penso che si sia capito il senso. Diciamo che parte tutto un po' come uno scherzo, un gioco, non tutti i partecipanti credono molto in queste cose qua ma gli spiriti annunciano la morte di una persona che poi viene effettivamente trovata morta. Si indaga quindi su questo crimine e devo dire che sono rimasta un tantino delusa da questa storia fra i vari libri che ho letto di Agatha Christie sicuramente quello che mi è piaciuto meno un po' per il caso in sé che ha una risoluzione secondo me molto sbrigativa come indagine non mi ha fatto per nulla impazzire anche proprio la soluzione vera e propria viene data in 448 e ci si sofferma di più su le diciamo questioni personali di alcuni personaggi che non è necessariamente una cosa negativa però in altri romanzi della Christie ho trovato più bilanciate, più bilanciati questi due aspetti della storia quindi le storie personali dei personaggi e l'indagine in sé. I personaggi sono abbastanza insipidi, sono bene o male tutti uguali, visti e rivisti si sente la mancanza di una figura diciamo di spicco che potrebbe essere l'investigatore come ad esempio c'è una ragazza fra i protagonisti che indaga però non è un personaggio diciamo di spessore quindi sono rimasta delusa proprio dal complesso di questa storia. Una lettura invece che mi ha entusiasmata è stata l'avversario di Emmanuel Carrère di cui su Storytel ci sono anche almeno altri due romanzi se non sbaglio un romanzo russo e i baffi ho visto inserito in libreria comunque l'avversario è uno di quei titoli di cui avevo sentito tantissimo parlare soprattutto per quanto riguarda il true crime non sapevo però effettivamente di che cosa parlasse questa storia quindi gli ho dato una possibilità e sono contenta di averlo fatto perché mi è piaciuto moltissimo l'autore in sostanza racconta un fatto di cronaca che vede per protagonista un uomo che ha ucciso la sua famiglia e ha tentato poi di uccidersi ma non ci è riuscito l'autore incontra quest'uomo e cerca un po' di ricostruire la sua storia che cosa ha portato l'uomo a un gesto così estremo tutto parte da una bugia diciamo piccola magari anche stupida però si porta avanti questa menzogna, questa facciata e per proteggere questa piccola bugia se ne creano tantissime altre fino ad arrivare ad un punto di non ritorno in pratica quest'uomo non si è mai laureato in medicina ma andava a dire in giro di essere un medico e anche di spicco la sua famiglia, i suoi amici, tutti erano convintissimi di questa cosa è arrivato a un certo punto però è stato lì per essere smascherato e quello è stato il punto di rottura che poi l'ha portato a uccidere la sua famiglia e niente io sono rimasta decisamente sconvolta è una storia che non va nel profondo per quanto riguarda l'aspetto scientifico del processo però racconta proprio l'aspetto umano e trovo che sia molto interessante un'altra lettura molto interessante che io vi consiglio di fare è i ragazzi della Nickel di Colson Whitehead il protagonista di questa storia è un ragazzo che per diciamo una sciocchezza per una svista, una leggerezza finisce in una sorta di riformatorio, scuolari, educativa che è appunto la Nickel questo ragazzo in realtà si è sempre comportato bene aveva grandi aspirazioni, voleva andare al college eccetera e si ritrova appunto assieme tra virgolette a dei criminali in una scuola veramente dura tant'è che il romanzo inizia quando vengono ritrovati i corpi di alcuni ragazzi proprio nei pressi di questa scuola e tutto questo si ispira a una vicenda realmente accaduta è una storia che parla non soltanto degli abusi dei maltrattamenti fisici ma anche psicologici di razzismo, della discriminazione è una storia abbastanza forte e dura e dai temi sicuramente molto molto importanti io non sono rimasta molto colpita dalla trama in sé nonostante io riconosca gli abusi anche di potere in questa storia è proprio evidente anche la differenza di trattamento fra i ragazzi bianchi e i ragazzi neri però forse mi aspettavo qualcosa di ancora più forte ancora più coinvolgente diciamo ecco non ne sono rimasta troppo entusiasta non è riuscito a colpirmi così tanto come speravo e come mi aspettavo visto che è un titolo di cui ho sentito parlare molto molto bene in lungo e in largo un altro titolo molto famoso e chiacchierato che non avevo mai letto ma che ho appunto ascoltato è stata La ragazza con l'orecchino di perla di Tracy Chevalier si tratta di un romanzo storico sulla figura del pittore Vermeer e appunto in particolare la famosissima ragazza con l'orecchino di perla ragazza che ha 16 anni e che si ritrova a lavorare per la famiglia del pittore perché il padre il capo famiglia diciamo in seguito a un incidente non può più lavorare e quindi in famiglia servono soldi viene quindi presa da questa famiglia presso cui lavora se non sbaglio durante la settimana poi nel weekend comunque torna a casa dalla sua famiglia c'è quindi un confronto fra due realtà abbastanza differenti perché comunque anche se poi la famiglia del pittore si scoprirà avrà dei problemi economici è comunque una famiglia di una classe totalmente diversa rispetto alla famiglia da cui proviene la ragazza e si trova a maneggiare un po' anche gli oggetti un po' più di lusso un po' più preziosi della padrona di casa e a sognare diciamo anche un tipo di vita diversa soprattutto per quando inizierà a occuparsi anche dell'atelier del suo diciamo padrone quindi a venire a contatto anche con l'arte la pittura, i colori è un romanzo molto interessante innanzitutto per l'aspetto storico per le differenze sociali per gli usi, i costumi diciamo dell'epoca il confronto fra cattolici e protestanti anche qua però mi è mancato qualcosa non sono riuscita a entrare molto in connessione con i personaggi la protagonista l'ho trovata odiosa e un po' infantile, capricciosa non sono proprio riuscita a forse capire il personaggio comunque entrare in empatia e questa sorta di antipatia mi ha portato a non apprezzare magari tantissimo la storia in generale, le vicissitudini di questa ragazza della sua famiglia, del suo lavoro ho ascoltato anche Morte di un giovane di belle speranze di Jessica Fellows il secondo libro nella serie i delitti Mitford di cui su Storytel ci sono i primi tre ho visto proprio adesso che c'è anche il terzo infatti non vedo l'ora di ascoltarlo perché nonostante non mi sia piaciuto granché il primo romanzo ovvero L'assassinio di Florence Nightingale Shore e nemmeno il seguito mi ha fatto proprio dire wow che bello l'audiolibro mi è sicuramente piaciuto di più come esperienza generale rispetto al romanzo cartaceo perché sono libri anche in questo caso con uno sfondo diciamo storico e un mistero diciamo in sottofondo mi aspettavo che questa serie i delitti Mitford fosse più concentrata sull'aspetto crime, mystery in realtà è un po' di sottofondo c'è una buona parte che ricopre anche in questo caso la differenza fra classi nel primo libro ci troviamo di fronte a una ragazza che va a fare da babysitter presso una famiglia decisamente più facoltosa ci sono riferimenti comunque a persone realmente esistite ma le storie, le loro avventure diciamo sono completamente di fantasia quindi aspettandomi una serie diciamo più improntata sul genere crime mi aspettavo qualcosa di forse più non immediato più scorrevole ci sono secondo me alcuni punti un po' morti non dico noiosi però quasi per quelli che sono i miei gusti e quindi ascoltando morte di un giovane di belle speranze sono riuscita ad andare avanti più spedita nell'ascolto del libro proprio perché non ero io a dover leggere quelle parti anche un po' più tediose per me un po' più statiche noiosette quindi diciamo che in generale non è la miglior serie che io abbia mai letto ma ci sono degli aspetti secondo me interessanti sia nel primo che nel secondo l'aspetto comunque del mistero ti invoglia a continuare a leggere per scoprire che cosa è successo e come si risolve la faccenda c'è poi questo sfondo comunque storico che ha il suo fascino comunque e quindi anche se in alcuni punti non succede nulla di che o magari i personaggi sono un po' anche in questo caso non troppo simpatici si va avanti per sapere come va a finire e quindi nulla questi erano bene o male gli audiolibri che ho ascoltato nell'ultimo periodo fatemi sapere qua sotto nei commenti se anche voi ascoltate audiolibri se avete letto o ascoltato qualcosa nell'ultimo periodo che pensate possa piacermi io oltre a continuare ad ascoltare alcuni libri di Agatha Christie come vi dicevo voglio assolutamente ascoltare il terzo libro della serie I delitti Mitford e probabilmente anche un romanzo russo e i baffi di Emmanuel Carrère perché l'avversario mi ha incuriosita molto spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima ciao ciao